Come potete contestare agli amici di NCD prima e poi agli amici di ALA che hanno sostenuto il percorso delle riforme costituzionali che voi stessi avevate immaginato di rimanere semplicemente fedeli a un patto al quale anche voi vi eravate legati e dal quale siete venuti meno non per esigenze di moralità politica ma per correttissime valutazioni di opportunità? Avete cambiato idea voi non hanno cambiato idea gli altri e di questo dovrete rendere conto alla vostra gente.